4 maxi opere di cartapesta nelle piazze, il ritorno della sfilata dei carri sulle mura, il carnevale per bambini e lo show dei Pampers. Sono questi solo alcuni degli eventi che segnano il ritorno di Lucca e Maschera, il contenitore di iniziative che animerà la città per tutto febbraio. Oltre alla riproposizione della sfilata del carnevale di Viareggio sulle mura fino a piazza San Michele il 4 di febbraio, ci sarà per tutto il mese di febbraio stesso un evento straordinario, cioè installazioni in cartapesta giganti nelle piazze della città, in particolare i Rolling Stones in piazza grande e poi avremo una mega tigre realizzata da un maestro di carri sta di Viareggio sotto l'oggiato di Palazzo Pretorio, un allestimento della fiaba di Pinocchio in piazzale Verdi di fronte al centro di accoglienza turistica e sei sciamani, una mascherata dello scorzone del carnevale di Viareggio che conquisterà l'anfiteatro. Madrina d'eccezione della sfilata sarà Chiara Squaglia, volto noto di Striscia la Notizia, che aprirà la parata insieme a Ondina e Burlamacco il 4 febbraio con ritrovo alle 15 sopra Porta Sant'Anna. 3. Le giornate dedicate ai più piccoli nelle piazze della città, affiancate dal ritorno dell'allegra baccanata, degli sconti in maschera nei negozi e del carneval fratta nell'area est della città. Cresce poi l'attesa per l'allestimento curato da Luca Summer Festival in piazza Napoleone, dove approderanno Rolling Stones di cartapesta alti 7 metri e per lo show dei Pampers in piazza anfiteatro sabato 17 febbraio a cura di Luca Crea. Nuove e vecchie sinergie dunque che vanno a rafforzare il legame tra la città e Viareggio nell'ottica comune di incentivare il turismo tutto l'anno e su tutto il territorio. I risultati che abbiamo raggiunto in quest'anno a seguito di questa collaborazione ci hanno dato ragione. Il Carnevale sulle mura a Luca nel 2023 e il Luca Comics a Viareggio nel 2023 hanno consentito di allungare i tempi della stagione turistica in un'ottica di destagionalizzazione completa dei flussi turistici e direi che le destinazioni hanno avuto dei risultati importanti anche perché sia la città di Luca che Viareggio hanno aumentato i flussi turistici nel 2023. Ora il tema è proseguire questa collaborazione e migliorarla perché sicuramente noi nel Luca ci accontentiamo dei risultati raggiunti ma vogliamo ambire all'eccellenza e per questo stiamo già lavorando sia sul Carnevale a Luca come abbiamo visto oggi con un allestimento importantissimo sia sui comics a Viareggio nel prossimo autunno. Bene?